Vaccinazioni contro il covid anche sulle spiagge toscane grazie a una nuova iniziativa promossa dalla regione nell'ambito del progetto Giovani si vaccinano. A partire dal prossimo fine settimana un team di sanitari si sposterà lungo la costa su questo camper fornito da un gruppo di donatori che il presidente della regione Eugenio Gianni ha voluto simbolicamente avviare da piazza del Duomo a Firenze. In ognuna delle località coinvolte i sanitari vaccineranno chi si sarà prenotato tramite il portale regionale. Sono disponibili 150 dosi di vaccino Pfizer al giorno e il camper toccherà dal 7 al 12 agosto Follonica, Capalbio, Porto, Santo Stefano, Fonte Blanda, Marina di Grosseto e Castiglion della Pescaia. Noi cercheremo di stare sulle coste dove i giovani sono in vacanza per poterli vaccinare se non l'hanno potuto finora fare e stimolare quindi una Toscana che sia sempre più virtuosa attraverso le vaccinazioni al contrasto con quello che è il male che in questi anni ci ha afflitto il coronavirus. Questo camper non solo servirà per vaccinare ogni giorno 150 ragazze e ragazzi di Toscana ma servirà per in qualche modo giocare sulla comunicazione. Noi con questo mezzo stimoleremo anche coloro che passeranno ad informarsi perché a bordo ci saranno due infermieri, un medico, un operatore sanitario. Persone specializzate, insomma la scienza e la regione toscana scendono in spiaggia per dire alle persone anche di informarsi, di chiarire i propri dubbi. Il camper per le vaccinazioni è stato donato da Toscandi S.P.A. Vangi Orion, Confartigianato Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. In qualche modo ci sentiamo di restituire un po' quello che il territorio ci ha dato, la possibilità di avere un'azienda che funziona sul territorio e di restituire qualcosa. Dal 13 agosto in poi Baccini Spiaggia toccherà altre località della costa toscana.